C'è una frase del tuo post che mi ha colpito e te la voglio leggere Manuela era a conoscenza di tutto, ho sempre sostenuto che la verità paga sempre spesso la vita è imprevedibile e le cose cambiano velocemente Cosa intendi per la vita è imprevedibile e le cose cambiano così velocemente? Cos'era successo? Che tutto comunque adesso cambia rapidamente, è difficile fare progetti perché appunto quest'estate stavo facendo altri progetti con una persona che poi ti dico ho fatto molto male e sto male per questo, poi ad un certo punto qualcosa è scattata nella mia testa, ho capito che la mia priorità doveva essere mia figlia anche se ho cercato sempre di darle il peso possibile perché la mia vita mi butterei nel fuoco per lei e ho conosciuto Manuela, non dico diversa perché secondo me le persone non cambiano però ha migliorato, ha fatto un gran percorso su se stessa, ho visto la bimba felice e mi sono sentito nel posto giusto, quindi ho capito che il mio posto era quello poi come abbiamo visto possono esserci le malattie, le pandemie o miliardi di altri eventi esterni che cambiano veramente l'andamento delle cose, quindi non posso fare più programmi a lungo termine ma godermi veramente quello che è il mio amore adesso e la famiglia per me è tutto grazie a tutti grazie a tutti